Buonasera ragazzi, bentornati qui sul canale Riloco e dopo ve lo faccio un video però volevo dire è finita Lecce e Pordenone finita 0-1 per il Lecce e finito anche la Serie B finito questo campionato come mai si sapeva ormai il Pordenone è già retrocesso da circa un mesetto ormai da un giorno di Pasquetta e Pordenone che appunto saluta con quest'ultima partita di campionato la Serie B e torna in Serie C ufficialmente l'ultima partita di campionato la stadio che si è giocata giù a Lecce in uno stadio completamente strapieno e tutto carico proprio perché adesso appunto Lecce è salito di categoria meritatamente naturalmente si è meritata insomma per il percorso che ha fatto come primo in classifica squadra che era più forte del campionato ed è giusto che sia stato così partita parliamo un'altra partita velocemente partita che si è svolta effettivamente come doveva andare anzi il Pordenone ha fatto anche molto bene per come erano le premesse insomma prima del match ecco diciamo che 1-0 è anche risultato naturalmente stretto per il Lecce che va molto bene almeno noi usciamo a quantomeno a testa alta con un minimo di dignità e si niente insomma alla fine però le occasioni per Lecce sono state tantissime è stato buono la difesa del Pordenone il Pordenone si è difeso in modo abbastanza anche buono per quello che poteva fare insomma diciamo hanno cercato di limitare il più possibile gli attacchi del Lecce che naturalmente è stato dirompente e complimenti comunque anche chi è andato giù a Lecce oggi e che ha seguito la squadra in ogni occasione naturalmente il prossimo anno penso finirà in questa partita mettiamo a parte voglio dire questo video è anche più che altro riassuntivo e conclusivo di questa stagione anche perché da tanto che non faccio sul Pordenone per sbagliati motivi non c'entrano scusamente i risultati naturalmente perché se no non sarebbe molto senso ma ce ne sono altri motivi voglio dire questa stagione vabbè ormai tutti sappiamo abbiamo tutti ormai appreso che ormai la serie Cire è inevitabile già da quando la fine è arrivata Terino già il fine è andato ormai era chiaro quale sarebbe stato il destino del Pordenone ne avremmo dovuto fare un po' quello che ha fatto il Vicenza vedi adesso che si sa farà i play-out e ne siamo stati a lungo appaiati al Vicenza insomma noi avremmo dovuto fare quel percorso lì anche noi però comunque è andata così almeno spero che questa sarà una lezione per il futuro la cosa positiva almeno che dal prossimo anno si tornerà a giocare si tornerà a giocare vicino a Pordenone si giocherà a salire di Fontana Fredda che è lo stadio appunto che avremmo dovuto giocare che avremmo dovuto utilizzare ancora quella volta se non fossimo saliti in Serie B quell'anno lì nel 2018-19 proprio perché il Bottecchiano era più a norma insomma non poteva più ospitare i gas per le partite della Lega Pro ecco almeno questa è una cosa positiva positiva anche il fatto sarà che si tornerà quindi in un campionato in cui è diciamo un po' meno competitivo magari il Pordenone farà qualche vittoria in più speriamo noi saremo un po' da protagonisti quindi si tornerà ad essere protagonisti e lo stesso ci dovranno essere squadre importanti prossimo anno in Serie C quindi dovrebbe essere sempre una bella Serie C ora vediamo se tipo il Pado ha su oppure una trestina comunque metti una delle due squadre potrebbe esserci una solo Girone o anche un Vicenza magari viene retrocesso naturalmente non glielo auguro però se dovesse essere lo stesso sarebbe un bel campionato ecco di Serie C comunque dovrebbe essere il nuovo allenatore di Carlo un allenatore secondo me molto importante ha fatto bene anche in Serie A quella volta col Chievo allenato ha fatto bene non benissimo con Vicenza naturalmente quest'anno parlando sempre di Vicenza ormai qua sono diciamo abbastanza positivo per il prossimo anno possiamo fare una buona annata naturalmente mettendoci da parte questa ormai ci avevo messo una pietra sopra ormai si le partite si giocavano giusto perché dovevano essere giocate basta ecco sì non mi è piaciuto naturalmente alcuni atteggiamenti della società che tipo ha scaricato il giudino fin da subito oppure alcune critiche durante la stagione per quanto riguarda i tifosi la società si è sempre presa le sue responsabilità e la società va solo ringraziata perché siamo arrivati in Serie B certe cose naturalmente non hanno fatto molto piacere però è anche vero che effettivamente non erano tanti tifosi allo stadio per esempio però c'erano mille però ecco e che adesso non voglio stare qui ad elencare perché tanto alla fine un po' tutti qua a Bordenone lo sappiamo un Bordenone appunto che ripartirà al prossimo anno della Serie C spero naturalmente di partecipare dopo il prossimo anno allo stadio naturalmente in quanto sarà possibile con i diversi impagni futuri anche e speriamo insomma che si ricrei un bel gruppo e una bella atmosfera a Bordenone perché la mia diciamo così la mia delusione più grande è stato proprio il fatto che il Bordenone non ha mai goduto effettivamente della Serie B perché quando si parte un po' il primo anno appunto all'inizio che giocavamo a Udine e si stava creando anche lì un bell'ambiente però è anche vero che lì c'erano anche molti risultati positivi perché infatti il Bordenone quando si è concluso a marzo per la causa appunto della pandemia il campionato il Bordenone era secondo era un periodo molto buono e si stava creando un bel gruppo anche a Udine poi c'è stata la pandemia e quindi ha fatto quello che è successo e a Lignano non si è mai creato un vero quell'ambiente che c'era al Bottecchia quell'ambiente che dicevi che tu quando entravi a Bottecchia e la gradinata ti sentivi tutti insieme tutti i fratelli tutti che si puntavano all'obiettivo comune c'era proprio un bel clima ecco quello che proprio ti appassiona ti fa la voglia c'è proprio quel clima che ti dici che bello non vedo l'ora di andare allo stadio non vedo l'ora di vedere il Bordenone ma proprio per l'atmosfera che c'era ed è questo secondo me il bello del calcio questi anni non c'è stato questo io spero effettivamente che il prossimo anno possa effettivamente portare tanti tifosi muovere allo stadio che col prossimo anno ci possano tornare tanti tifosi allo stadio col fatto che si gioca a Fontana Fredda e spero insomma che questo ambiente magico venga un po' ricreato ecco detto questo ragazzi io vi saluto qui ci vedremo presto spero con prossimi video ciao ragazzi ciao